Ho visto un'ottima squadra, la mia intendo, e credo che per il volume in gioco che abbiamo fatto, se avessimo perso sarebbe stata veramente una cosa, una beffa, credo. Abbiamo giocato con grandissima intensità dall'inizio alla fine, abbiamo giocato qualitativamente un ottimo primo tempo. Siamo andati in svantaggio quando meno ce l'aspettavamo e poi siamo stati bravi a non perdere la testa una volta passati in svantaggio e a recuperare il risultato, credo che sia strameritato.